ah yes, hai visto il flecchio. Allora, il fen... ah che bello, è rastrato proprio come dovessi per mettergli il fen. Seppla, seppla, è il panello lì, solo superficiale. La mia farò pare, la mia bestiala. Che bello! Si fa male? Si è grattato lì da quel parte. Adesso andiamo ancora a vedere il forno, il pan lo fa tutti. No, ogni tanto fumo, la pano si buona in giro. Questo è il terrazzo, il balcone del mulo, che domina il paese. Guardate qua che vista che ha il mulo. Il fiume è sempre lì, no? Lì, sì. Sì, sì. C'è Gressonei, San Gian e Trinitè. La Trinitè sono 11 km. Sì, sì, sì. Qua c'è lo scivolo che è da dentro la stalla, vedete? Porta fuori la droggia e il liquame. Per calia con l'escavatore. Per calia con l'escavatore, via. Porta si prà. Il fiume lo fate qua vicino, tutti quei prati lì. Noi tagliamo anche la falce ancora. Come lo chiamate qua, il dai? La falce. La ganga. Come? La ganga. Ah, noi invece il dai. Ah sì? Il dai, ah. C'è qui con il fauset, perché poi c'è l'altra falce, quella piccola che taglia a mano, quella curva. Il fauset lo chiamavo. Invece. Perché noi a Dronero abbiamo. Per noi è la roncola. La roncola, ma là. Noi a Dronero c'è la fabbrica, è conosciuta a livello mondiale, quella delle falci. Sì. Che ha un acciaio che è super proprio. Sì, sì, sì. Eh. Sì, sì, sì. Ecco qua siamo di nuovo sul fienile. Sì. Sì, se ne due hai la botola che va sotto. Sì. Tutto. Questa ti fa una chiave, vedi? Sì. Che tiene assieme la casca. Questa è la chiave che tiene tutto assieme. Sì. Questo fienno ti basta per finire... Quanti capi hai in tutto di vacche? Sì. Ah, ne ho ancora un altro. Sì. Andiamo ancora a vedere l'altro. Quanti capi hai di vacche? 22 adesso. 22. Più le capre perché c'è anche una baita di là. Con le capre? Le capre le ho di là in una baita. Ah, boh. In mezzo al bosco. Vengo poi un'altra volta. Sì, sì. Qua c'è la buschera dove tiene tutta la legna. Vedete? Tiene tutta la legna per passare l'inverno. Tutta la tagliare da sistemare. E poi c'è questa qua fuori che è bellissima. Adesso mi sposto. Giovedì. 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 No, giovedì. Giovedì. E poi ho anche un disegno della versione. Questo è un altro a fianine. Sempre tutto tasso attivamente l'arice del posto. Guardate che travi. Guardate che roba. allora qua chiudiamo questa puntata non so che numero perché ho perso il conto e andrò poi a montarle sulla borgata si dice dei waltzer che comunque ritornerò perché c'ha un 300 anni di storia e andiamo vi porterò poi in alpeggio dove avete l'agriturismo dimmi un po' il vallone qua vallone di lo e gli amici dei cavalli io farò da guida perché oramai sono di casa andiamo su dormiamo nel fielile nella stalla fumo festa saluta da zenzero ci vediamo alla prossima troppo simpatici troppo bello ciao ciao a tutti ciao ne alla prossima Sì